Ciao a tutti ragazzi sono me a Grinja E siamo su Slithery La skin è questa la mia Ok Ok iniziamo con Il mio nome è di youtuber Ecco fatto Mi ha abbrattato perché vado sempre a capestino Quindi non ho tempo Ragazzi vi dico un nuovo aggiornamento Del canale Allora metterò Le creepypasta perché Che cosa sono le creepypasta Sono delle storie dell'orrore Veramente reali Cose dell'orrore reali Tipo panesta fredis Eeeh Quindi C'è un meglio di fare questo Poi le canzoni Che non so veramente cantare Eeeh Non ho nessun oggetto di musica Che arriveranno fra poco Faranno molto E quindi dovrà anche aggiornarle Quando sarò Arriverò alle prime medie Ovvio Eeeh Quindi Ok ora basta Parlare Giogliamo Ecco Voglio sceltare tipo questo Chi non sapesse Slithery è un gioco da vermi Perché sei un verme E noi dobbiamo colare Più persone E il mio record Era quando Sono arrivato Al decimo In classifica Questo si chiama Uggi Uggi Ciao Uggi Uggi di Ok gioca Madonna Ho chiamato la Madonna E ho avuto questo premio Slarg Così da gratis Abbiam 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 E E Prima Clemploy R Ma guardate Quanti punti sono E' la Madonna Ma come Vanno a avere Sti punti Fini Ok Tipo Ora Ho Cerchiato Uno Ragazzi Qua la tattica speciale è a cerchiare gli altri dovete vincularli perchè dovete ammazzarli prima che voi ammazzano loro quindi è meglio fare così la mia tattica lasciarlo morire morire perchè tanto deve morire ho finalmente capito che deve morire piccolina sta ma questo piccolino vuole morire dai grazie 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 già ora dovete tranquillamente morire ragazzi non mi interessa che sono grandi o piccoli basta che mi uccide e basta mi uccide un corpo vai uccidi sti porci uccidi sti porci dovete morire dovete morire stavo pure in braccio di me voi lo sapete ma sono registrato questo video di sera ok sono a 3000 volti lordi devo uccidere dove è lordi l'arri dove sei ok ragazzi questo video pulisce qui perché qui ragazzi è venuto in tutto ciò trutto ragazzi